È stato un anno, ma meglio di così non poteva andare, quindi siamo molto felici di tutto, di come è andato il film, dell'accoglienza che ha avuto dal pubblico, soprattutto pubblico anche femminile, evidentemente Marcello è riuscito a arrivare al cuore di un pubblico femminile che si è ritrovato in certi aspetti del suo modo di essere, la sua sensibilità, umanità, fragilità. E quindi siamo felici, siamo felici di come sono andate le cose.